Siamo la prima azienda in Italia ad aver utilizzato veicoli a metano liquido. La nostra scelta nasce dal fatto di un progetto condiviso sia con IVECO per quanto riguarda la realizzazione del veicolo a metano liquido, sia con ENI che è stata la prima ad aver aperto il primo distributore in Italia a metano liquido. Insieme a loro abbiamo fatto questo percorso che poi ha portato ad avere noi come LT3 in flotta attualmente 70 veicoli alimentati a LNG. Diciamo che l'abbiamo fatta come visione e come scommesso in quanto l'azienda ha sempre creduto nel rinnovamento e nel green e da questa è nata l'esigenza di convertire, l'opportunità anche di farlo, di convertire la flotta a metano liquido che ci ha permesso sostanzialmente di fare lo stesso lavoro che facevamo prima, quindi banalmente trasportare la stessa merca, la stessa tipologia, stesso percorso, però attualmente lo facciamo inquinando molto meno rispetto al diesel e questo come azienda ha portato anche su settori della GDO a fare programmi condivisi, quindi dei progetti con vari attori della GDO che hanno sposato in pieno la causa del metano liquido e di conseguenza del trasporto sostenibile. Come prossimo step abbiamo deciso di dotare quando sarà disponibile, quando sul mercato sarà disponibile i nostri veicoli che già sono predisposti ad usarlo con il biometano liquido. Il biometano che può essere estratto da reflui piuttosto che da rifiuti e ci permette così di ottenere ulteriori vantaggi dal punto di vista dell'inquinamento, quindi dell'inquinamento ambientale, che uniti a già quelli che abbiamo ottenuto ora con l'LNG e quindi una riduzione del C2 del 15%, dei NOX all'incirca del 50%, polveri sottili del 95%. Con il biometano andremo a ridurre ulteriormente la CO2 di un 95%, quindi praticamente andremo quasi ad alzerare il fattore CO2.